Parte la fase 3 di questa emergenza Covid-19, possiamo dire che parte una nuova vita per i commercianti? Finalmente riapriamo e vi aspettiamo a braccio aperte. Abbiamo provveduto a prendere tutte le dovute precauzioni. Siamo estremamente felici di riaprire oggi, anche un po' emozionati. È come se per noi fosse una nuova inaugurazione. Abbiamo cercato in tutti i modi di osservare il protocollo. Abbiamo messo i parafiati, pulito e igienizzato con l'ozono, tutti i presidi medici e chirurgici previsti dal decreto. Siamo pronti, in forma, con tante promozioni, sconti e contenti di rivedere i nostri amati clienti. Sì, sì, dai, ci siamo. È solo questione di abituarsi alle nuove normative, alla distanza di sicurezza di un metro e ripartiamo normali, dai. Siamo positivi, siamo positivi. Mesi difficili per tutti, sicuramente. Noi non sapevamo nemmeno come comportarci e questo aggravava la situazione, però da come ci hanno detto e da come riusciremo ad uscirne sono, penso, parole, come posso dire, un po' aggravanti, dai. Ci riusciremo senza fare troppe storie, dai. Finalmente, dopo un lungo periodo, insomma, di stop, vediamo di ricominciare la grande, di riprenderci più forti di prima e ci proviamo, insomma. Il nostro locale è munito di centri genitanti per le mani, accoglieremo due persone alla volta e cercheremo di abituarci alla nuova normalità, sperando che andrà tutto bene. Dopo una lunga attesa siamo pronti per questa sfida, diciamo che siamo stati messi a dura prova, ma siamo ancora più combattivi e quindi speriamo di vincere noi questa dura battaglia. Però dai, ci siamo organizzati con i genitanti, soprattutto con i guanti per chi dovrà indossare i capi e quindi mascherina per chi non ne fosse fornito all'ingresso, gliela forniamo, gliela omaggiamo. E quindi cerchiamo di attenerci un po' a tutte quelle che sono le disposizioni, diciamo, del Ministero, insomma, diciamo così.